Gli agenti della polizia di Catanzaro Lido hanno posto agli arresti domiciliari una donna di 46 anni, la cui posizione si trovava in aggravamento del divieto di avvicinamento al marito e ai figli e ai luoghi abitualmente frequentati dagli stessi. La donna è stata arrestata perché tempo addietro aveva commesso reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Secondo l'accusa, l'indagata si sarebbe posizionata in almeno due occasioni, con la propria autovettura a circa 100 metri dall'abitazione del marito e dei figli, nonostante avesse l'obbligo di mantenere una distanza dalle persone offese non inferiore a 300 metri. Inoltre, nonostante il rigetto dell'autorizzazione a svolgere attività di volontariato nei pressi dell'abitazione delle persone offese, la donna, incurante di ogni prescrizione impostale, ha deciso di svolgerla comunque. Gli agenti hanno così eseguito l'ordinanza di custodia cautelare ponendo la donna ai domiciliari.